In una piccola e pittoresca cittadina chiamata Ratonia, viveva una comunità di topi che vivevano una vita tranquilla. Tuttavia, la loro pace è sempre stata minacciata da un gatto astuto e malvagio di nome Ramon, che cercava costantemente modi per intrappolarli. Un giorno, il gatto Ramon decise che aveva bisogno di una nuova strategia. Sapeva che i topi erano intelligenti ed evitavano sempre le sue trappole. Così escogitò un piano. Si sarebbe vestito da topo per mimetizzarsi tra loro e coglierli di sorpresa. Con grande impegno, il gatto Ramon ha realizzato un costume perfetto. Utilizzando ritagli di stoffa e un po' di trucco che ha trovato a casa del suo padrone. Faceva in modo che il suo aspetto fosse convincente. Al punto da camminare e parlare come un topo. La mattina dopo, Ramon entrò a Ratonia con il suo nuovo travestimento. I topi, sebbene all'inizio diffidenti, non notarono nulla di strano nel nuovo topo che si unì a loro. Si presentò come Max. Un topo appena arrivato in cerca di un posto sicuro dove vivere. I topi lo hanno accolto a braccia aperte, e gli hanno mostrato la loro comunità. Per giorni Ramon, sotto il nome Max, si guadagnò la fiducia dei topi. Ho partecipato ai loro giochi. Ho aiutato a raccogliere cibo e ho condiviso storie accanto al fuoco. I topi, convinti della loro nuova amicizia, iniziarono ad abbassare la guardia. Ma Ramon era sempre vigile. Aspettando il momento perfetto per mettere in atto il suo piano. Una notte, mentre i topi dormivano, Ramon cominciò a piazzare trappole in tutto il paese. Era sicuro che all'alba avrebbe avuto in trappola un gran numero di topi. Tuttavia, non aveva l'astuzia di un giovane topo chiamato Pedro il topo. Pedro, sempre curioso e attento, aveva notato certi comportamenti strani in Max. Ha deciso di seguirlo di nascosto, e ha scoperto la sua vera identità e il suo piano malvagio. Pedro corse subito a svegliare gli altri topi e rivelò loro la verità su Max. I topi, inizialmente increduli, cominciarono a ricordare piccoli dettagli che avevano trascurato. Insieme, hanno ideato un piano per smascherare il gatto Ramon, e assicurarsi che non possa mai più ingannarli. All'alba, quando Ramon stava per festeggiare il suo successo, i topi lo affrontarono. Sappiamo chi sei veramente, Max, o dovrei dire, Ramon, disse audacemente Pedro il topo. I topi circondarono Ramon, che non aveva più paura. Quando fu scoperto il gatto Ramon, cercò di scappare, ma i topi gli avevano preparato una trappola speciale. utilizzando un ingegnoso sistema di corde e carrucole, riuscirono a catturarlo e tenerlo a bada. Non sottovalutare mai l'intelligenza e il coraggio dei topi, diceva il topo Pedro mentre il gatto Ramon lottava per liberarsi. Dopo essersi assicurati che Ramon non potesse causare altri guai. I topi lo riportarono dalla sua proprietaria. Preoccupata per la scomparsa del suo gatto. Da quel giorno il gatto Ramon imparò a rispettare i topi e non cercò mai più di ingannarli. Da parte loro, i topi ratonia divennero ancora più cauti e vigili. Ricordando sempre la lezione che avevano imparato. La morale di questa storia è chiara. Diffidenza e vigilanza sono necessarie per proteggersi da potenziali inganni e pericoli. L'astuzia e l'arguzia possono sconfiggere anche il nemico più astuto.